Si è presentata la nuova società alla quale ho fatto un grande in bocca al lupo, ho ricordato tutto l'impegno che l'amministrazione comunale ha messo nel cercare di fare da spalla alla società, adesso la società cambia proprietà ma la squadra rimane, è un sembolo della città e quindi noi ci contiamo fortemente, sapete l'impegno che ci abbiamo messo per far sì che questa vicenda si chiudesse e si è chiusa positivamente. Mi sembra che ci siano tutte le premesse per cercare di fare bene, quindi adesso sta a noi cercare di programmare e sviluppare il progetto che abbiamo in mente. La prossima settimana, non appena le cariche sociali saranno ufficiali, ma sono tutta gente per bene, gente neofita del calcio, entrano in questa avventura per la prima volta e si fidano molto del sottoscritto per cercare di fare le cose fatte bene e noi ci proviamo. Secondo me sì, la soluzione è migliore, ci abbiamo messo parecchio perché se io avessi dato retta da settembre a tutti quelli che hanno bussato alla porta, credo che saremmo andati in una delle peggiori situazioni, come succede spesso in questa categoria. Questo non è un solo proprietario, è un gruppo di Roma che ha molteplici attività, dalla ristorazione alle costruzioni a, come si chiama, un'energia fotovoltaico, eccetera. Quindi sono diverse società racchiusi in questo consorzio e ogni società ha un suo settore. Gente che conosco, posso tranquillizzare tutti così si tranquillizzano anche tutti coloro che stanno pompando i giocatori per questa messa in mora. I soldi, degli stipendi e dei contributi già sono sul conto Arezzo da ieri sera, da ieri pomeriggio. Quindi questo è già fatto, così non ne parliamo più. Settimana prossima faremo anche la conferenza, adesso sento Zavaglia quando la vuol fare, dobbiamo fare prima il nuovo CDA, quindi noi ci dimettiamo e subentrano loro, quindi settimana prossima per forza, obbligatoriamente. È un buon nome, a Roma almeno è un ottimo nome, poi qui non lo so, è un imprenditore, anche grosso, anche grosso. Il mio stato d'animo è da una parte buono perché mi sento un po' sollevato, ma dall'altra parte è un po' di spiacere, no? Perché anche se l'Arezzo è degli aretini, io me la sono sentita come una mia creatura, perché se penso all'inizio e tutta la storia, poi le cose più so sofferte più uno ci si attacca, no?